questo non va bene questo non va bene questo non va bene e dove c'è il gratis? grazie sentiamo che è venuta a girare a me si e la chiudi ma che è una vittaccia non ci vuol dire vuol dire con te e quindi va, li ho un po' un po' ciò ma non ci riusciano 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 buongiorno buongiorno grazie benissimo responsabile βα voglio prima soddisfatto Ma che ti tappi l'occhio?